Ciao gente! Lai è Elena, Lai è Marika e insieme siamo le METWINS! Oggi faremo un video speciale, ovvero la ginnasta e l'incapace Tu la ginnasta? Cioè io sono la ginnasta perché sei tu? Sì, sì, va bene No, sono io la ginnasta ragazzi Abbiamo deciso di fare questo video perché abbiamo superato il traguardo dei 500 iscritti Grazie ragazzi, grazie anche a tutte le nostre fanpage che ci sostengono sempre Ai messaggi che ci inviate ogni giorno, ai video che ci fate, grazie di cuore Grazie ragazzi Prima posizione di ginnasta, la spaccata Io non la so fare spaccata Sbaccata, allora Ma io non la so fare E' divertente che questa è rotta con te Ma è frontale Ma sì, ma tu lo sai fare? Io no Io ci provo ma non mi prometto niente Cioè ho paura, cioè io mi ammazzo per Pasqua sicuro No, non ti uccidere Invece di cuocere la mia, lo cuociono a me questa Secondo tentativo Va bene, l'ho fatta bene Ma se la faccio già da terra Trauma come vuoi Così Ok, l'ho fatta già da destra Va bene Frontale, dai Sinistra, sinistra Passiamo ai giri Almeno non mi spezzo col giro Avevo detto io che era lei l'incapace Io farò di peggio, cioè tu sei caduta e io cosa farò Allora, o questo o se no questo Ti faccio scegliere E dov'è la differenza? In tutto ciò Per me sono difficili tutti Poi provo a fare una via di mezzo di quei due che ha fatto Elena Vediamo cosa ci esce Oddio Ci riprovo Dai prova pure l'altro Qua sei quello con la gamba Oddio aspetta Oddio vincito la testa Passiamo alle rovesciate Alla rovesciata in avanti Che cos'è la rovesciata? Ah questa Questa in avanti Poi c'è indietro E io come la faccio? Con una mano Con una mano Io la puoi fare con due Ma io non la so fare neanche con due È diverso E infine col cambio Che cos'è il cambio? Wow Con una mano Siamo arrivati a 500 iscritti E devo morire Dai che non succede niente O mi ammazzo Corna Corna O non lo so fare Due sono le cose Aiuto Ma una bella spinta Vai Ci riprovo? Un pomodoro Vai Peggio Una salamone Vai Traba Faccio tre grazi però L'ultima volta Vai Non c'è te senza tre Vai Ancora 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 Una cosa semplice Il ponte però dall'alto Ah lo so fare No cos'è dall'alto Eh? No io non lo so fare Però dal basso forse si Allora raga Dopo l'incidente di prima Mi sono mazzagata un piede Per fare la ruota o rovesciata Come la chiama Elena Decido di mettermi il cuscino Almeno sotto la testa Perchè Preveniamo Ma se mi faccio male la testa Muoio Come farete senza mie? Elena come farete senza mie? Lame twins Da sola Lo faccio dal basso Da l'alto Nei ci provo Perchè se no veramente muoio Oh che bello Bello Buonanotte Buonanotte Però è che è difficile così Aio Dai Cherry Ma gli è freddo Che fai? Aspetta mi sono fatto male il braccio Però questo No questo incontro Mi fai pure la pennighella così Come saprete nella ritmica ci sono degli attrezzi E tra questi Le clavette Balles 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 Le tensioni Indietro Braccio destro Braccio sinistro E insieme Semplice Ragazzi sono pronta con le clavette Giocoliere Come si fa? Allora stendi il braccio Si gira i polsi Oh Sono brava Ragazzi Una ginnessa provetta Io sto a cadere Cadere da Alla Poi Com'era? Avanti Poi un braccio solo Così Così in avanti Poi indietro Adiamo Perché le faccio male Va bene Ok E poi E poi l'altro braccio Con la sinistra No Non lo so Ti voglio vedere No Non lo so Facciamo Va bene Ultimo maneggio Con le clavette Dei lancetti Semplici Eh? Due Un Mamma ho rotto le mattonelle Ci stanno Così Bravissima Brava Come non farlo Ti ho fatto vedere Adesso Ti ho fatto vedere Come farlo Bravissima Adesso ho rotto le mattonelle Ma non fai niente Una volta Anche l'altra però No no Solo questa Non vedi questa mano Guarda Era pure di punta L'ho preso Guarda Ho cambiato Adesso faccio l'altra mano No cara Non faccio l'altra Non faccio l'altra Speriamo come sempre che il video vi abbia strappato un sorriso E passiamo adesso ai saluti Partendo da Giorgia Barilaro Ciao Giorgia Poi Sara Ciao Sara Tocca a te Merab Ciao Merab Se lo dimentica sempre raga Poi Lunina Ciao Lunina In realtà Luna però su Instagram Si chiama Luna Si chiama Lunina Quindi Ciao Luna Ciao Luna Sole Comunque sembra che noi facciamo sempre le cose apposta nei video Però no Sole e Luna Aspetta tra l'altro che erano tantissime Sara No No chi è? Vabbè Ciao Sole e Luna Ciao Poi Desiree Lazzari Ciao Desiree Ciao Desiree Tocca a te Tocca a te Ma perchè aspetti ogni volta Perchè non ritroverò il nome Perchè non ritroverò il nome Perchè non ritroverò il nome Sto all'altra Cioè Noi stiamo saluti Perchè non mi tocca a te Poi Erika Favette Ciao Erika E niente Finito Ah io devo salutare la piccola Giorgina Una nostra fan Ciao Giorgia ti voglio bene Se il video vi è piaciuto Mi raccomando non scordatevi di mettere un bel like Iscrivervi Mi raccomando iscrivetevi Commentare Attivare la campanella E poi seguiteci anche su Instagram Mettete like ai nostri post Commentate se vi fa piacere E seguite le nostre Instagram story E niente Al prossimo video